Si aspettava sempre che succedessero le cose. Allora adesso mi viene da dire, ma invece che le cose aspettare che succedero, perché non le facciamo prima? Allora uno pensa, perché mi devo interessare alla violenza sulle donne se ho una figlia femmina e l'hanno aggredita? Posso interessarmi alla violenza delle donne anche se non ho figlie femmine? Ecco, mi veniva questa idea. Posso? Era un'idea che mi veniva, pensavo. Adesso si fa molto outing, si fa outing, il personaggio famoso dice ho avuto un tumore e vi racconto, è possibile che qualcuno di famoso vada in televisione e dica non ho avuto niente, sto da Dio però voglio interessarmi al tema dei tumori. Perché io devo credere e capire quando mi succede? Perché deve succedermi un incidente per capire che ha 260 in autostrada? E questo perché? Allora dice, auguro a molti incidenti a randello perché dice guarda che l'esperienza fa capire. A parte che come italiani mi rendo conto, oh noi abbiamo capito, noi abbiamo capito un casino. Cioè più esperienza di così.